Arexons Applica il prodotto con movimenti circolari, esercitando una pressione più o meno forte in base al graffio. Rimuovi subito con un panno di cotone, senza aspettare che il prodotto asciughi. Mirage Rimuovi Graffi contiene microparticelle abrasive che rimuovono i graffi leggeri e i residui di vernice o gomma della carrozzeria. Arexons. Makes the difference. Graffi.